16 mesi per l'ingegner Stefano Cola ed 8 mesi per Diego Zurli, i due imputati nel processo per il crollo della diga di Montedoglio. Queste le richieste del PM Luigi Nicacci, rispettivamente per il direttore dei lavori e per l'ex direttore dell'ente Acqua e Umbro Toscana. L'accusa per entrambi è quella di disastro colposo. Dopo la requisitoria del PM, questa mattina nel corso della penultima udienza del processo hanno preso parole legali delle parti civili, del responsabile civile, l'ente Acqua e Umbro Toscana, rappresentate dall'avvocato Luca Fanfani ed infine degli imputati assistiti dall'avvocato Piero Melani Graverini. Le difese hanno chiesto la piena assoluzione in quanto la colpa del crollo per loro sarebbe da ricercare in coloro che realizzarono la struttura. Il proprietario di un terreno allagato invece ha chiesto un risarcimento di 40.000 euro. Il crollo della diga risale al 29 dicembre 2010, quando nella notte venderò giù i conci che sul lato sostengono l'impianto. Da lì l'acqua dell'invaso si riversò sul Tevere, provocandone la piena, per fortuna senza conseguenze, sulle persone. Per la pubblica accusa, i due imputati avrebbero sottovalutato il significato della crepa, che addirittura nel 2006 si aprì in uno dei due conci. La sentenza è stata fissata per la prossima udienza in programma il 26 luglio.